salve a tutti e ben ritrovati dal vostro jo oggi piccolo video veramente molto breve proprio perché volevo parlarvi semplicemente di una cosa che sta succedendo appunto all'interno della mia vita e del mio cane e del mio canale come ben sapete più volte in live vi ho spiegato per appunto che i miei impegni in questo momento sono molto più alti del normale e quindi io di conseguenza non riesco a garantire le live stream così come le garantivo prima magari durante la sera o durante la settimana e quindi giustamente è comunque giusto darvi delle spiegazioni ci sono delle cose che ovviamente devo fare che ovviamente non posso che non posso dire però vi posso dire che ovviamente mi terranno molto occupato durante la settimana soprattutto durante le giornate se la sera riesco ad essere libero ovviamente non mancheranno le live streaming dove saremo insieme la cosa buona è che fortunatamente per questo momento almeno per quanto riguarda dissidia opera omnia non c'è tanta roba da fare a parte un po di farming a parte comunque tutto quello che riguarda il diciamo la crescere le proprie risorse ma per il resto comunque non c'è non c'è altro da fare e questo ovviamente un pochino mi dà un aiuto dal punto di vista organizzativo per cui appunto volevo dirvi che uscirà a partire da lunedì quindi a partire da giorno 6 uscirà una nuova serie che ovviamente mi accompagnerà nel canale per non lasciarlo completamente vuoto durante questo periodo in cui io personalmente non sono disponibile per fare live streaming o per produrre alcuni video per cui ho già pre registrato e completato una serie che vedrete a che vedrete partire appunto da domani quindi domani incomincia una nuova serie per tutti i giorni dispari quindi lunedì mercoledì e venerdì alle 12 usciranno per l'appunto questi video non vi dico ovviamente il gioco che tratterò vi posso dire che è un gioco che a me piaceva tantissimo da ragazzino ed è un gioco che ovviamente non vedevo l'ora di poter rigiocare anche insieme a voi e farvelo conoscere per tutto quanto il resto ovviamente ci rivedremo su opera omnia quando avrò la possibilità di poter streammare e quindi quando avrò la possibilità di poter ritornare online se riesco la sera sicuramente avrete le mie notizie tramite discord quindi vi invito ad iscrivervi al mio discord o iscrivervi al canale per non perdere tutte le news e tutti gli aggiornamenti soprattutto vi dico anche di iscrivervi a twitch perché le live su twitch molto probabilmente saranno sempre più impegnative e saranno sempre più come dire frequenti su twitch cercherò comunque piano piano di spostarmi su twitch spero almeno per le live quindi veramente vi invito a non perdervi nulla su twitch anche perché ormai siamo quasi vicini ai primi 50 follower che sembrano pochi ma in realtà sono veramente tanta roba detto questo io non voglio perdere altro tempo quindi quello che dovevo dire ve l'ho detto spero che ovviamente possiate seguirmi e possiate stare con me anche durante questo piccolo periodo di pausa tra virgolette di assenza anche se vi ripeto non per forza sarò obbligato a non fare live o comunque a non stare online durante la serata ci rivedremo sempre con i video di opera omnia ogni volta uscirà un nuovo evento un nuovo aggiornamento se riesco pubblicherò subito i video e per il resto niente ci vediamo all'interno del canale ci vediamo su discord su twitch e ovviamente un po dove volete voi vi ringrazio ancora una volta per aver seguito questo video ringrazio soprattutto la disponibilità dei free gameplay to use che metterò ovviamente in descrizione per dare merito appunto a coloro che mi danno l'opportunità di poter registrare anche senza dover creare un chissà quale contenuto e avere già tutto pronto tra virgolette e quindi niente ci si becca alla prossima ringrazio